Dopo lo straordinario successo delle 5 giornate a Sansepolcro, la ventesima edizione di Kiloat Festival si è trasferita a Cortona. Dal titolo eccesso di realtà il festival internazionale multidisciplinare di teatro, danza, circo e musica ideato e diretto da Lucia Franchi e Luca Ricci ha attraversato il centro della cittadina etrusca, dal teatro Signorelli al complesso di Sant'Agostino con le sue sale Il Chiostro, la palestra di San Sebastiano e la piazza del Duomo. Io pensavo fosse più lunga, l'infanzia dico, quando ci sei dentro pensi che non finisca mai, poi invece hai un attimo di giri e non c'è più. E grazie al bando Siete Presente, promosso dal CESVOT e finanziato dalla regione toscana, sono stati i protagonisti del festival anche gli under 30. Si volta, fa per andarsene e poi dice, lei ha toccato come si suol dire il mio punto nebranfico, che è come dirle che le ha toccato il cuore.